La previdenza degli psicologi e in generale la previdenza dei libri professionisti di fatto rispetto alle premesse quando furono proprio istituite queste casse che erano un po' premesse di natura negativa, si pensava che non ce la facessero, beh diciamo che questo fenomeno di privatizzazione, quindi questa gestione privatizzata di una previdenza che comunque è obbligatoria e pubblica ha dato degli effetti molto positivi. Per quanto riguarda la cassa degli psicologi sicuramente il tasso di crescita della popolazione attiva è molto molto considerevole, il rapporto tra attivi e pensionati è estremamente favorevole, è molto più alto rispetto a quello che abbiamo nel sistema pubblico IMSS, quindi siamo praticamente a quattro volte tanto. Il capitale, la patrimonializzazione è molto cresciuta e quindi diciamo che, come abbiamo detto nel report, abbiamo raggiunto una base solida per creare ulteriori prospettive per il futuro, quindi il risultato, il saldo non può che essere positivo. Se ben gestita e quindi capendo bene che andiamo verso una fase di forte invecchiamento della popolazione e quindi una gestione della demografia oculata e quindi significa età di pensionamento coerenti all'aspettativa di vita, contributi coerenti a quella che sarà la futura pensione, il sistema è molto solido e del resto il metodo di calcolo contributivo ha in sé quegli stabilizzatori automatici che possono garantire un futuro abbastanza solido e comunque duraturo.